Abbiamo sempre ricercato la perfezione, l'arte e la maestria nel nostro lavoro. Noi la storia non l'abbiamo vista, l'abbiamo fatta. La nostra è una storia che ha inizio nel lontano 1790. Il caffè è il perfetto equilibrio di gusto, racchiuso nella rotondità di una tazza. Non esiste aroma migliore di una miscela perfetta, il frutto di un attento lavoro è il colore della nostra passione. Selezioniamo le migliori qualità per raggiungere l'eccellenza. Dal raccolto alla tostatura seguiamo con cura ogni passaggio, grazie all'esperienza, frutto di secoli della nostra tradizione. Per noi gusto significa consapevolezza. Per questo abbiamo creato l'Accademia del Caffè, un luogo dove diffondere la cultura della qualità e formare le nuove generazioni di professionisti al caffè di eccellenza. Crediamo che il caffè sia anche bellezza, che unisce la natura all'ingegno dell'uomo. Abbiamo progettato lo spazio Kobo, un luogo che raccoglie oltre 300 pezzi e oltre due secoli di storia. Abbiamo visto passare gli anni e le macchine cambiare. Ma non i segreti delle nostre miscele. Bontati. Credete ancora sia semplice caffè? Bontati.